salve a tutti ragazzi allora oggi diciamo siamo felici perché oggi è arrivato questo momento interessante prima volta anche se l'attesa per me anche se l'attesa era di 5 mesi ma per me era come se fosse ieri comunque ragazzi oggi è un giorno straordinario sapete il motivo per questo bellissimo sito che si chiama girata guardate un po qua ecco a voi il pacco mamma mia non vedo l'ora di fare questo unboxing per il semplice motivo che è il primo acquisto quindi come primo acquisto essere felice non è da meno anzi siamo molto felici perché non si sapeva mai a parte per il prezzo molto stracciato nel senso con un prezzo originale meno per cent molto per cento di sconto ovvero non si sa se fino a 70 per cento fino a tanta comunque eccoci qua oggi vi farò vedere anzi come incarterò questo benedetto questo benedetto bello questo benedetto è bel bel pacco da girada eccolo quindi oggi apriremo questo pacco vedremo guardiamo tutti bene insieme questo dovrebbe essere fifa 18 fifa 18 che è uscito da poco infatti ecco lui cristiano ronaldo anche se io andrò contro di te perché sono hulk 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 filippino tu lo sai guardate questo gioco talmente straordinario da provare comunque parliamo adesso di girada girada è un sito e commerce dove tu puoi acquistare come abbiamo detto prodotti a prezzi veramente stracciati ovvero con maggiore sconto perché crederci beh come io io non mi fido mai di tanti siti ma già a partire dal sito su internet su youtube o e su vari siti quindi mi ha fatto venire voglia di pensare caspita questo c'ha quattro stelle e mezzo su trust pilot e altri addirittura ci provano e ho visto vari unboxing che in pratica mamma mia spettacolari infatti ho acquistato altri due prodotti altri due prodotti da aspettare con tanta attesa anzi farò dei nuovi video quando mi arriveranno comunque sì spettacolari prezzi stracciati e questo è stato il mio unboxing comunque alla prossima con un altro video e con un altro unboxing ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti